Buonasera, vi propongo Valentina Cortese di Alfredo Baldi. Alfredo Baldi, storico del cinema, ha diretto la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale. Storico e critico, ha insegnato linguaggio cinematografico all'Università La Sapienza di Roma. Nel 2022, per l'editore ETS, ha pubblicato Valentina Cortese, Un breve secolo, 1923-2023. Ripercorrere così oggi la vita e le interpretazioni per il cinema, il teatro e la televisione di Valentina Cortese, nell'occasione dei cento anni dalla nascita e tre anni dalla sua scomparsa, presenta motivi di interesse. Prima di tutto perché Valentina è stata senza dubbio l'ultima diva della scena italiana. Dopo il suo ritiro, nessun'altra attrice ha raggiunto il suo carisma, la sua capacità di essere sempre, quando era presente, al centro dell'attenzione e dell'ammirazione, senza contare la ricchezza e la duttilità interpretative. Valentina ci incuriosisce anche perché la sua vita, iniziata in condizioni a dir poco disagiate, ha subito tali e tanti cambiamenti o addirittura ribaltamenti da rendere quasi fantastico il suo racconto. Leggerò l'Incipit. Valentina, tu sei milanese? Ti senti milanese? Io sono milanese, di Porta Nuova. Milano è il mio grembo materno, la mia cuccia, dove mi rifugio come cane bastonato a leccarmi le ferite o a gioire raggomitolandomi tutta dentro come un gatto felice. Milano è anche la mia più cara amica, con la quale divido il bene e il male della vita. Poi Milano è buona e generosa con te. Come non esserle grata quando ti avvolgi in quel sipario magico di nebbia per cancellare il male che ti gira attorno e poi per farti ritrovare all'improvviso uno spiraglio di azzurro, di luce. L'infanzia è un punto cardinale della mia vita. Alla tenera età di un giorno, la levatrice, che aiutò mia madre, diciannovenne, a partorire, mi pose tra le braccia amorevoli di una baglia, una contadina lombarda che dopo un frettoloso battesimo mi portò nella sua povera dimora di Agnadello vicino Crema. La famiglia nella quale sono cresciuta era povera ma dignitosa. Quei primi sette anni trascorsi con loro tra quella gente meravigliosa e fiera che sono i contadini della Lombardia sono stati determinanti per me e con loro che ho imparato a camminare nella vita sono loro che mi hanno plasmata e con loro si è formato il mio carattere. Mia mamma certo avrà pensato al mio mantenimento ma era troppo giovane per sentirsi madre e poi si era appena diplomata in pianoforte al conservatorio e tentava di affermarsi. In sette anni vette a trovarmi due volte quando avevo un anno e quando ne avevo tre. Mi dicevano che era la zia Olga, una signora molto bella ma molto diversa dalle persone con cui ero abituata a vivere. Arrivava con una bellissima macchina scura accompagnata da un autista. Il suo apparire mi creava un'oscura e indefinibile angoscia. Non mi ha mai portato un giocattolo, solo una volta una scatola di biscotti. Un giorno sento arrivare una macchina. Allora era un avvenimento a quei tempi di macchine ne giravano davvero poche. Le donne per spaventarmi cominciarono a gridare Valentina è la tua zia Olga che viene a portarti via. Io allora scappo, coro a chiudermi là dove papà Giuseppe lavorava da falegname e resto lì delle ore. Perché anche nella miseria non conoscendo altro sono stata una bambina felice. Ricordo con tanta dolcezza le sere d'inverno quando dopo una cena modesta e in casa si era esaurito il fuoco nel camino per risparmiare la legna andavamo a riscaldarci nella stalla dei vicini. Io seduta sul cadreghin con la testa appoggiata sul grembo della mia baglia ascoltavo le voci familiari dei contadini che a volte si divertivano a raccontarci storie incredibili di faine, di lupi, di streghe spaventandoci a morte. Le contadine mi volevano bene. Ricordo i loro grembiuloni neri di cotone e i fazzoletti calati giù sulla fronte. Giù, giù, quasi a coprirsi gli occhi, come a voler nascondere, non so, i loro segreti, le loro tristezze, il sudore o chissà le loro paure. I loro fazzoletti erano scuri di cotone, con qualche fiorellino bianco qua e là. Solo la domenica erano di seta nera e riot si chiamava in dialetto ed era considerato un segno di pulicizia, di eleganza povera. E in fondo questo fular che mi metto sempre, sempre, è per me come una loro carezza che continua ad accompagnarmi. Ripercorrere la vita di Valentina Cortese, per me è stato un piacere una scoperta. Ve lo consiglio.